Adiva Rosso, un animatore, un amico, un eroe. Non è andato in camera, ma soprattutto, i miei, ieri, per fare una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, trenta luci piazzati, soprattutto sono 48 in tutto, hanno fatto 48, non mi sono andato, metterle dalle loro posizioni, farsi le prolunghe, fare i puntamenti, ma siamo potuti fare gli effetti luce che ha fatto questa sera, ha fatto, signore e signori, le 5.30 di mattina, qua. Però, signore e signori, se sarà fatto, se sarà più valore, non lo so, se sarà bevuto bitteri, bitteri di ghettore, di mendola, ma il risultato, bello mio, si è visto e come la nostra, il nostro bellissimo tecnico, lo ci sono, Ivan Rossi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!